cosa stai preparando? è un cremoso gianduia è un dolce che noi abbiamo in carta posizioniamo questo crumble al cacao al centro del piatto mettiamo un cremoso gianduia fatto con una base cremio inglese e il cioccolato gianduia fuso prendiamo il gelato al caffè bianco e il gelato al caffè bianco come lo fate? allora una base di gelato normale alla panna però abbiamo messo a infusionare i chicchi di caffè nella panna per 4 ore poi dopo le abbiamo tolte così ha mantenuto il sapore ma non ha tenuto il colore e viene bianco a questo punto lo finiamo con una tegolina di pistacchi arance è una sfoglia? no è un tegolino è fatto con burro, zucchero, succo d'arance e poi gli stacchi sopra questo piatto è stato preparato da? da Vede Aglievi del ristorante Marcelin di Monta grazie a tutti